Il 2 luglio sono partiti i saldi estivi in Campania. La prima risposta, soprattutto a Napoli, è stata positiva, ma complessivamente, a distanza di qualche giorno, l'approccio della gente resta piuttosto timido. Da sempre i saldi rappresentano una opportunità, specie per i commercianti, ma con i venti di crisi, il carovite e il gran caldo di questi giorni, i cittadini campani non si lasciano andare allo shopping compulsivo. Per la bambina sì, ho speso qualcosa, per me non ancora. Non ci sottraiamo alle vacanze, sicuramente, dopo un anno faticoso, quindi su qualcosa dobbiamo pure fare economia. Ma pesano un po' gli aumenti, il carovite, su questi saldi quest'anno? Sicuramente sì, sulla popolazione, sui cittadini, senza altro. Ma io lavoro in un negozio, però vedo che la gente non viene a spendere. Questo a me piace spendere. È un po' la preoccupazione generale, comunque c'è un panico diffuso dalle televisioni, giustamente, i contagi aumentano, eccetera, la gente è molto influenzabile e poi il clima, diciamo, ultimamente non sta aiutando, c'è molto molto caldo. Sinceramente ai soldi non ho mai creduto molto, per cui no, non ritengo che comunque, stando la crisi, non ci sarà un grosso incremento. Non ho ancora acquisito nulla. Lo farai? Sicuramente, per me e per lui. Senti, ma il carovite pesa un po' su questi saldi quest'anno, gli aumenti? Sicuramente, io poi vivo a Torino, quindi adesso sono in vacanza dai miei, niente, però pesa ovunque. Per me stanno andando bene, ho speso qualcosina, ma niente di particolare, insomma. Non ci crede molto nei saldi? No. Anzi, io a volte li aspetto per poterlo fare, è chiaro che li controllo.